Nella giornata di ieri il personale della Polizia di Stato ha eseguito nell'ambito dei servizi straordinari disposti dal questore della provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, e coordinati dal locale procura della Repubblica, diretta dal dottore Alessandro D'Alessio, diversi controlli nella città del Pollino e nel suo Interland, finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. In particolare il personale della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Castrovillari, congiuntamente all'unità cinofila della questura di Vibo Valencia, ha fatto accesso all'interno di un complesso residenziale nella frazione Doria di Cassano all'Oionio e nel corso dell'attività di Polizia è stata rinvenuta, in un'area di vita verde pubblico, nei pressi delle case popolari, sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 15 dosi per un totale di circa 11 grammi ed eroina in pietra, suddivisa in 49 dosi per un totale di circa 44 grammi. Il servizio, proseguito in città, ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriore sostanza stupefacente per un totale di 130 grammi di hashish. La droga, seppur occultata all'interno di un box di un condominio del centro cittadino, non è sfuggito al fiuto del cane poliziotto Max. La sostanza stupefacente sequestrata avrebbe fruttato in debiti introiti per un totale di circa 3.500 euro. Grazie a tutti.